Ciao a tutti ragazzi, benvenuti con Mr. Gamer Allora, stasera giocheremo a un mix tra Pac-Man e un Survivor Lord Dovremmo raccogliere dei cocci all'interno di un hotel nei corridoi Però ci saranno delle cose misteriose che tenteranno di fermare la nostra impresa Lasciamo scoprire a voi queste cose cosa sono Quindi vi auguriamo buon divertimento E buona visione Allora, vi c'eravamo a mano quando aveva rotto il bicchiere l'altro giorno Oddio, che cazzo Oddio, è riuscito l'assassino Oddio What the fuck Sì, è una roba Cioè, è distintivo della polizia, vedi chi? Cazzo, sai, è un'azienda Cosa c'è un testo, scusa? È tipo... Un prodacchino, chi è? Chi è? Non bussa, no? Chi è? Nooo Corriamo, se corrano mi prenderanno marci Sì 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 Spero Totta Il rischio è un testo sul muro non sono una volta a un concetto di nulla proprio una parte dell'uomo che so tutte no no ma è tutta calcola oh ma che scosso mamma mia oh shit vai adesso è l'ultima vita sprecala bene ci sono ancora solo 100 pezzi da prendere solo? si si allora eh ma questa un culo dentro dove ci sono ci penso io ragazzi direi che quando interviene in pro c'è stato tipo uno squarto di maiale c'è uno squittio no no ci penso io ripiglio tutti sono 250 in città guarda ti puoi lasciare la gente oh ma che ci vuole vedere il mini italiano se vuoi scimmio assassino se vuoi scimmio alle pelle circa lo t'ho fatto da un'altra parte perchè mi sparisce davanti quel coso eh sa che i cortelli invece non mi spariscono tipo mi infigliano nelle orbite è un'arbia impresa anche se non trascino la faccia sul muro e me la gratto come se fosse un armigiano oh se li visti così e la faccio gli spazzini si attenzione mi va in bocca qui c'ho delle strategie tutte molto mie di sequenziali si molto provate si molto profilare quando faccio qualcosa non sbaglio ok ho fatto il riso non lo so però va bene va bene così va bene così sono la veria dell'altro meglio si scusa perchè le chiami cioè non restare nel vuoto il cuore ma sai come quando ero io venivano come come fiori e ora no c'è si si oddio 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 come cazzo ha fatto la sua merda schiacciata da un gatto ora spreca le tue viti infilmente e lascia solo 34 pezzi quindi calibrante non vuoi morire giovane solo 34 dici c'è interessante pare ce la puoi fare no 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 ah ma che brava essere che voglio a disposizione quelli mamma mia ah 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 dai sono 11 pezzi ce la vuoi fare sono anche tutti vicini si è un cacchio no che poi sono anche cattivi perchè eh i cani perchè c'è tutto un mozzo mi sono fatto perdere miseramente 15 secondi della mia vita c'è bisogna sempre come se mi appariva scusa a sinistra no a destra a partire da destra a partire da destra c'è come dipendere tutti nelle varie zone mi ha lasciato per continuare a giro a giro mason questo via è trick 60 60 gradi nel pod oh si è una mafiata questa capito stavamo in chiaffetta se erano messi d'accordo c'erano le radio questi sono tanti accorgi mi sento si fumo andare a dire una mafiata di canesi non è possibile mai da chiaffetta una ballerina le asunto le asunto le asunto fatte lo sapevo lo sapevo che t'aspettavano è stato uno stupro nell'angolo a stirare l'altro a stirare perchè i giri dopo devi girare prima di girare l'angolo ma quando se c'ha dentro nel muro no 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 andiamo a casa dai questi troiai no 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 perfecchi ma si guarda ma fuori non ciò fare mai tipo ce n'eravate più ma adesso spero una vita ce n'eravate più ma ce n'eravate più ma non te ne andiamo quanti fortuna ma c'è qui no ma c'è qui 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 brava 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 allora ragazzi ci fermiamo qui avvite io siamo riusciti a prendere insieme ho fatto metà del lavoro di io grazie ciao insieme siamo riusciti a finire questo gioco che si chiama Dark The Deception finalmente avete capito quante erano le misteriosiались tizzi arcani che erano lì insieme erano le scimmie con le cotellini che ci fanno così bitti e ci fanno una macelleria come al solito lascio la parola a missis per i saluti se vi è piaciuto iscrivetevi, commentate e se vi piace anche la faccia di facebook in descrizione, per oggi è qui tutto mi stai iscriviti a me ciao ciao